buonasera a tutti io vi ringrazio dell'invito chiaramente avrei avuto moltissimo piacere a partecipare attivamente anche al dibattito che immagino seguirà ma purtroppo come potete immaginare sono ore molto molto difficili per chi fa informazione dalla palestina e sulla palestina in questo momento la nostra redazione di fatto decimata perché diciamo che uno dei nostri punti di forza è proprio quello di avere giornalisti che vivono e lavorano in palestina soprattutto a gaza e in queste ore abbiamo perso il contatto con alcuni di loro con alcuni siamo in contatto una volta al giorno ma le fonti dirette che ci arrivano sono sempre di meno e chiaramente questo pone un problema anche dal punto di vista di come questo questa guerra è raccontata e questo pone un problema fondamentale nella misura in cui questa guerra tutte le guerre ma questa guerra in particolare anche una guerra di narrazioni partiamo ovviamente da una disamina veloce di quello che sta accadendo credo che non ci sia bisogno di fare una cronaca puntuale ma penso che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che in questo momento si sta commettendo quello che molti esperti quindi non è una mia opinione giornalistica non è un titolo ad effetto ma quello che molti esperti in queste ore anche esperti gli esperti delle nazioni unite hanno definito un genocidio hanno parlato di rischio di genocidio io vi permetto di fare un passettino più avanti e di dire che sì ci sono tutti gli estremi per parlare di genocidio perché la popolazione di gaza è sottoposta a raid intensi non c'è un singolo luogo della striscia di gaza in questo momento che offre un riparo sicuro alla popolazione civile la maggior parte delle vittime di queste ore parliamo mentre sto registrando questo video di quasi 5000 vittime spero che non ve ne siano di più nelle prossime ore ma purtroppo il bilancio è destinato a salire sia perché per esempio soltanto nelle 24 ore precedenti alla registrazione di questo video sono state uccise 400 persone sia perché ci sono migliaia di persone centinaia però forse migliaia di persone sotto le macerie quindi stiamo parlando di una catastrofe umanitaria aggravata dal fatto che israele ha imposto alla striscia di gaza che ricordiamo era già sotto assedio ha imposto un assedio che io in queste ore sto definendo medievale ma semplicemente per diciamo ridurre il concetto a quello che noi ricordiamo dai libri di storia questi tristi assedi in cui non si permetteva alla popolazione di avere accesso al cibo all'acqua abbiamo visto in realtà che ci sono stati altri esempi nel corso della storia di assedi di questo tipo e in questo momento la striscia di gaza non ha acqua non ha cibo non ha carburante quei camion che vediamo accedere questa mossa molto propagandistica dei 20 camion al giorno sono assolutamente insufficienti in condizioni normali entrano centinaia di camion con aiuti umanitari a gaza invece adesso stanno entrando 20 camion poi 14 alla spicciolata come hanno detto gli operatori umanitari che stanno lavorando nella striscia si tratta praticamente di gocce in un oceano di disperazione gli ospedali sono tuttora sottoposti a ordini di evacuazione che chiaramente i direttori non possono rispettare perché logicamente significherebbe un certificato di morte per tutti i pazienti ma israele continua a bombardare anche nelle prossimità dell'ospedale dopo il bombardamento del 17 ottobre che ha ucciso quasi 500 palestinesi che si erano rifugiati nell'ospedale battista di alahli e che sono stati trucidati anche lì è scattata la guerra della narrazione è una una modalità un modo superandi che conosciamo molto bene noi che ci occupiamo di israele tutti i giorni quello di depistare i momenti immediatamente successivi a un fatto così grave che suscita una così grave indignazione nell'opinione pubblica per poi recepire il risultato di indagini indipendenti però si distrae l'opinione pubblica nelle prime 48 ore lo abbiamo visto nel caso di Sherina Buakle lo abbiamo visto con Mohammed al-Durra molti molti anni fa durante la seconda intifada è un modo superandi che la Hasbara la propaganda israeliana utilizza quando si rende conto che il limite della sensibilità della persona comune viene superato indagini indipendenti hanno confermato che no non si trattava di un missile della resistenza che peraltro non ha in dotazione missili di quella potenza che possono avere un risultato un effetto così distruttivo ma si trattava con tutta probabilità di un missile israeliano visto che appunto in quel perimetro in quel momento c'erano dei bombardamenti in corso questo diciamo è per fare un quadro purtroppo non esaustivo perché ci sarebbe moltissimo da dire sulla catastrofe umanitaria che sta vivendo Gaza in queste ore come si è arrivati fin qui che cosa è successo quel 7 ottobre e cosa potrebbe succedere in futuro il 7 ottobre il popolo palestinese ha ribadito non è il primo il primo tentativo del popolo palestinese di ribadirlo ma chiaramente ha assunto le dimensioni di qualcosa di assolutamente inedito nella sua esplosività ha ribadito che la questione palestinese è ancora cruciale per gli equilibri della regione e per gli equilibri del mondo qualche giorno prima del 7 ottobre si parlava insistentemente di un accordo di normalizzazione diciamo pattuito dalla dai soliti stati uniti per appunto normalizzare i rapporti tra arabia saudita e israele nonostante l'arabbia saudita avesse ribadito a più riprese che la condizione ultima di questo accordo erano era comunque l'istituzione di uno stato palestinese indipendente la verità è che c'erano voci sempre più insistenti che questo scoglio era diciamo quasi superabile soprattutto in virtù di un atteggiamento diciamo così se non compiacente quantomeno non completamente ostruttivo da parte dell'autorità nazionale palestinese in quel momento il popolo palestinese rappresentato chiaramente non dalla sua classe politica e dirigente ricordiamo che l'autorità nazionale palestinese in questo momento non rappresenta nessuno il suo il mandato del presidente dell'autorità nazionale palestinese marmuda bassa è scaduto molti moltissimi anni fa e da quel momento non si sono più tenute elezioni e soprattutto c'è una crisi di autorevolezza di rappresentanza che chiunque abbia seguito le vicende della palestina negli ultimi mesi aveva notato e denunciato nelle sue analisi il popolo palestinese in questo momento non ha neanche più la rappresentanza dell'olp io so che in occidente a molti piace pensare che l'olp sia ancora un organismo a cui fare riferimento la verità sul campo per chi si occupa tutti i giorni di palestina è che l'olp è stata completamente esautorata per i giochi che sono stati fatti intorno e dopo oslo per cui in questo momento l'olp che è vero rappresentava il popolo palestinese molti anni fa non è più un organismo rappresentativo è stato di fatto esautorato quindi in questo momento il popolo palestinese si sente rappresentato dalla resistenza dal movimento di resistenza hamas non hamas hamas è sicuramente il movimento più diciamo strutturato all'interno della resistenza che però ricordiamo agisce unita e sarebbe sbagliato considerare hamas come qualcosa di avulso come qualcosa di importato sento dire cose del genere assolutamente no hamas è comunque parte del movimento della resistenza e da un punto di vista prettamente militare organizzativo le forze che riesce a mettere in campo sono sicuramente superiore a quelle di altri gruppi e per questo motivo svolge in questo momento una funzione egemonica che non può essere sottovalutata ma ricordiamo che in questo momento hamas che peraltro è stato soggetto a paragoni assolutamente impropri che non ci aiutano questo al di là del giudizio di merito su hamas ma diciamo paragonare hamas per esempio all'isis è un paragone che è assolutamente inutile serve soltanto a esacerbare quella dinamica quella narrazione dello scontro di civiltà tanto cara al blocco dei paesi occidentali che solo disastri ha portato nella regione nel mondo hamas non è l'isis è molto più vicino invece ai fratelli musulmani in questo momento non dobbiamo neanche secondo me noi in occidente interrogarci sulla natura o meno sul giudizio di merito o meno rispetto a questi gruppi dobbiamo chiederci come mai anche forze di estrema sinistra come il pflp cioè il fronte per la liberazione della palestina partecipa uniti partecipa unito alle azioni di resistenza in quella che veniva chiamata la joint room of operations la camera unitaria della resistenza quindi chiunque cerchi di spostare la i termini nel conflitto israele hamas cioè le parole che sentiamo come un mantra su tutti i media mainstream in questi giorni sta facendo un'operazione che comunque non rende giustizia alla verità sì è vero il gruppo di hamas è stato diciamo militarmente e tatticamente protagonista di questa fase ricordiamo che invece per due anni hamas non era intervenuto direttamente e le azioni si erano diciamo limitate più che altro al movimento del jihad islamico quindi hamas atteso moltissimo finché non ha reputato che il momento per attendere fosse finito perché non c'era davvero più tempo e netany house è presentato all'onu sventolando una mappa con la scritta il nuovo medio oriente in cui non c'erano i confini della palestina nessuno nella nostra nel nostro blocco occidentale ha denunciato questo dinanzi alle nazioni unite nessuno e chiunque non lo abbia denunciato si assume la responsabilità di quello che è accaduto dopo ovvero di un popolo che dice non ci sto agli accordi di pace o di normalizzazione fatti sulla mia pelle e senza neanche essere interpellato non ci sto a far ridefinire i confini della regione senza la mia presenza dopo che appunto io sono stato protagonista di 75 anni di lotte contro l'imperialismo e contro il colonialismo e in questo momento diciamo era arrivato quel momento in cui un movimento per la liberazione di un popolo reputa che non vi sia più tempo non vi sia più margine di manovra purtroppo questo ha determinato e sta determinando una strage di civili che ci non solo ci addolora ci rende completamente diciamo ci deve far indignare al punto che dobbiamo chiedere fortemente un cessato il fuoco umanitario chiaramente e anche dobbiamo chiedere che israele per la prima volta nella storia dopo decenni di violazioni costanti del diritto umanitario internazionale certificati dagli organismi che l'occidente stesso si è dato per reputarsi diciamo civile come le nazioni unite o altri meccanismi israele non è mai stato ritenuto responsabile questo ha lasciato campo aperto a ogni sorta di nefandezza ogni sorta di crimine di guerra a ogni sorta di crimine contro l'umanità in questo momento mentre noi parliamo i movimenti nella regione nel mondo successivi a questo fatto sono enormi ci sono dei movimenti ancora sotto traccia ma che potrebbero avere a breve una potenza tellurica pensiamo per esempio sia al ruolo che hezbollah il movimento di resistenza libanese svolge nel sud del libano e quindi al nord di israele lungo quel confine in questo momento chiaramente hezbollah si sta limitando a una guerra di manovra semplicemente per deviare le forze che si trovano concentrate a sud di israele quindi al confine con gaza pronte a una possibile invasione da terra che diciamo ha avuto fortune alterne in questi giorni ora sembrava imminente ora sembrava annunciata poi è stata rinviata più volte non sappiamo in realtà se israele stia valutando delle opportunità anche tattico militari perché l'invasione da terra non sarebbe un'impresa facile neanche per israele ma chiaramente il ruolo di hezbollah in questo momento è semplicemente quello di distrarre le forze al nord e quindi proprio alcune unità dell'esercito israeliano per essere proprio per parlare in modo molto semplice sono dovute trasferire dal sud al nord per contenere quel fronte e questo chiaramente alleggerisce la tensione e la pressione sul sud in questo momento questo è l'unico ruolo che sta rivestendo hezbollah che però ha detto a più riprese noi non vogliamo che il conflitto diventi regionale ma qualora questo si rendesse necessario noi saremmo costretti a intervenire in modo più massiccio e sappiamo che hamas ha un potenziale che hezbollah ha un potenziale anche militare tattico militare superiore molto superiore a quello di hamas questo è stato riconosciuto anche da israele da membri del governo israeliano allo stesso tempo l'iran nella figura del ministro degli esteri ha più volte ribadito che ci sono delle red lines una di queste era l'invasione da terra ma nella giornata di domenica questa red line è cambiata perché per la prima volta il ministro degli esteri iraniano ha detto che l'iran dovrà necessariamente intervenire noi dobbiamo capire che le parole hanno un peso necessariamente perché l'iran ha intenzione di stabilire un ruolo egemonico nella regione quindi non può permettersi di non intervenire qualora il genocidio fosse completo e in questo senso appunto l'iran ha ribadito che non solamente nel caso di invasione da terra ma anche nel caso di proseguio di questi bombardamenti così serrati 400 civili uccisi in 24 ore soltanto nella giornata di domenica sarebbe costretto a intervenire la Cina ha diciamo reso operative delle navi che facevano parte di una task force all'interno del Medio Oriente movimenti ci sono in Siria dove Israele peraltro continua a provocare con bombardamenti reiterati soprattutto nella zona di Aleppo anche di Damasco poi movimenti ci sono in Iraq dove anche le forze della resistenza islamica si sono rese disponibili nel caso in cui ci fosse da confrontare quindi il fronte è abbastanza ampio in questa c'è lo Yemen con gli UTI che si sono anche loro addirittura hanno lanciato dei missili che hanno costretto indotto gli Stati Uniti a muovere la Heisenhower dal Mediterraneo orientale ad un'altra zona del Medio Oriente tutti questi movimenti combinati insieme a che cosa si oppongono a un atteggiamento assolutamente per certi versi incomprensibile ma in realtà ha le sue ragioni da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente che anziché attuare un ruolo di mediazione che è più appropriato per una superpotenza come quella appunto come gli Stati Uniti vorrebbero porsi e come la Cina ha ricordato cioè una superpotenza dovrebbe adesso intanto chiedere un cessato il fuoco e ridefinire senza prendere parte in modo troppo ostentato e troppo esagerato quando c'è un conflitto di questa natura in corso una guerra di queste dimensioni, di questa brutalità contro ricordiamo un popolo che non ha un esercito e non ha delle difese antimissilistiche per cui fare dei bombardamenti è anche un atteggiamento militarmente abbastanza vigliacco nel senso che non c'è possibilità da parte del popolo palestinese di difendersi quindi fare un grande numero di morti civili è abbastanza facile da un punto di vista militare non ci sono chiaramente difese antimissilistiche che possano essere reputate tali ci sono ma sono veramente rudimentali quindi gli Stati Uniti anziché considerare tutto questo non solamente hanno immediatamente preso le parti di Israele in un modo con una narrazione con un approccio retorico veramente molto molto pericoloso che ha infuocato gli animi Blinken prima e Biden dopo hanno dato praticamente carta bianca per il genocidio in nome di questo diritto all'autodifesa di Israele che tutti vediamo anche qualora dovessimo ammettere questo diritto chiaramente noi sappiamo tutti la logica ci dice che queste azioni sono andate ben oltre qualsiasi pretesa di diritto all'autodifesa ma questo non viene riconosciuto dagli Stati Uniti che addirittura in nome di questo bloccano con il potere di veto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite presentata dal Brasile in cui si chiedeva il cessato il fuoco umanitario e l'ingresso, l'accesso dei TIR per gli aiuti umanitari all'interno della striscia di Gaza è stata bloccata con il potere di veto da parte degli Stati Uniti che non hanno voluto sentire ragioni riguardo al fatto che volevano inserire in questa risoluzione il diritto all'autodifesa e stanno presentando in queste ore una bozza di risoluzione in cui questo diritto viene ribadito non sappiamo che cosa succederà non sappiamo il resto del contenuto di questa risoluzione presentata dagli Stati Uniti in tutto questo ripeto oltre agli Stati Uniti i paesi che in questo momento stanno facendo blocco intorno agli Stati Uniti e con Israele si stanno assumendo la responsabilità fortissima di non fermare di non richiedere con forza di fermare un genocidio che sta avvenendo dinanzi ai nostri occhi e di questa responsabilità chiaramente risponderanno dinanzi alla storia c'è un genocidio anche da parte dei media che in queste ore hanno prima fomentato l'odio dando notizie false infondate e non verificate e poi sottacendo invece notizie verificate per non stizzire diciamo i governi occidentali tutto questo io lo trovo veramente pericoloso la verità è che come ha giustamente detto il ministro degli esteri iraniano quella regione è in questo momento una polveriera e che in ogni momento tutto potrebbe accadere io mi scuso per la lunghezza chiaramente il tema da affrontare era abbastanza delicato quindi non sono riuscita a rientrare diciamo nei 15 minuti che mi ero prefissata e davvero mi avrebbe fatto piacere partecipare al dibattito spero di aver fornito comunque degli spunti di riflessione e diciamo che eventualmente se ci fossero domande insomma chiedo agli organizzatori di girarmele farò in modo di offrire diciamo il mio punto di vista quello che ho detto in questi 20 minuti circa è stato più che altro un resoconto di quello che sta accadendo con una prospettiva definita che il più possibile si avvicina a quella del popolo palestinese a cui rivolgo un saluto un saluto e un abbraccio per diciamo la lotta che portano avanti e che continua a dare speranza a tutti i popoli oppressi del mondo da 75 anni il popolo palestinese non ci sta a scomparire non ci sta a farsi cancellare da un progetto colonialista e imperialista quale quello appunto del sionismo e da 75 anni il popolo palestinese paga sulla sua pelle le conseguenze di questa azione quindi io vi ringrazio moltissimo e diciamo vi chiedo di diffondere il più possibile le notizie sulla palestina e su quello che sta davvero accadendo per contrastare la narrazione dominante che a volte davvero non si basa su dati di verità grazie